Allora continuiamo con Emily Rinaldi qui sul palco, sette anni, la sua frase Unicef è Grazie all'Unicef molti bambini nel mondo possono ricevere vaccini salvavita, opportunità di istruzione, aiuti nelle emergenze e molto altro. Grazie ancora Unicef. Emily ci canterà una canzone dal cartone animato Aladin, Il mondo è mio. Ora vieni con me, perci un mondo d'incanto. Principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì. Quello che scopri è davvero importante Il tappeto volante ci accompagna proprio lì. Il mondo è tuo, con quelle stelle puoi giocare Nessuno ti dirà che non si fa È un mondo tuo per sempre Il mondo è mio È sorprendente accanto a te Se salgo fin lassù, poi guardo in giù Che dolce sensazione Che dolce sensazione nasce in me Ogni cosa che ho Anche quella più bella No, non vale la stella che tra poco toccherò Il mondo è mio Tra mille diamanti, tra mille diamanti Correrò Con un po' di follia e di magia Fra stelle cadenti volerò Il mondo è mio Il mondo è mio Il mondo è mio Il mondo è mio Soltanto a noi Ti aiuterà Solo per noi Per te e per me Grazie Grazie Brava Emily Questa è per te Complimenti Vuoi dire qualcosa? Per questi bambini dell'Unice? Vuoi dire qualcosa? Mi dispiace tanto che loro stanno male E cosa vuoi? Cosa vuoi per loro? Zero Cosa vuoi per loro? Zero Di nuovo un grande applauso Grazie Grazie